Buono il movimento di De Ketelare, servito, il pallone morbido al centro, la sponda di Scalvini, poi posa lì, c'è, in mezza rovesciata, fa 1-0, esplode il popolo della Dea, mamma mia ste, io esulto perché ce l'ho anche al fantagalcio, finalmente è entrato con gli occhi della Digger, bravo! Sul punto ribattuta, Panada, che si ispira a Apires, parte Panada, è un gol meraviglioso il suo, che diventa un'empanada, proprio oggi contro l'Alessandria, ed esaudisce il suo sogno. Ancora pace Alizia, il piccolo trotto, il pallone buono per De Ketelare, la bomba, è un gol meraviglioso quello di De Ketelare, è stato bravissimo, stop e tiro, è favoloso, con quella faccia d'Angioletto, questo è un gol da diavolo puro. Ui, il pallone conquistato da Mazzoni, che lascia una poesia per Vovassori, che la legge, la interpreta, e soprattutto mette le rime dove devono essere messe, un gol meraviglioso quello di Vovassori, rivediamo, portiere pescato quello del Torino. Guarda Kup Miners con il sinistro, Rete, Rete, il grandissimo gol del futuro giocatore olandese, che traiettoria. Ma ti devo dire Maurizio, oltre a questa parabola meravigliosa, sai cosa di bello Kup, il nome, Kup Miners?